Sostenere le imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale per favorire in Umbria il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione e salvaguardare e promuovere l'occupazione. È quanto si propone il disegno di leggi in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale preadottato dalla Giunta regionale dell'Umbria su proposta del Vice Presidente con delega al lavoro Fabio Paparelli, un documento alla cui stesura, oltre ai componenti uffici regionali, hanno contribuito i presidenti dell'Asso Stampa Umbra e dell'Ordine dei giornalisti Umbri e rappresentanti della prima commissione consigliare che hanno partecipato al gruppo di lavoro. Il disegno di legge prevede diverse tipologie di misure a sostegno del settore e si rivolge all'emittenza televisiva e radiofonica, alla carta stampata, quotidiana e periodica, anche nella forma online alle agenzie di stampa quotidiana e uffici stampa. Sono previsti interventi qualificati, mirati e misure per sostenere il settore dell'informazione, per rispondere alle sfide che presenta l'innovazione tecnologica e le nuove modalità operative, utilizzando piattaforme distributive, privilegiando un regime di collaborazione tra tutti i soggetti del sistema giornalistico e radio-televisivo e di modernizzazione del sistema regionale di produzione e distribuzione e vendita della stampa locale, quotidiana e periodica. Attraverso il disegno di legge si intende inoltre stimolare iniziative di autoproduzione, progetti editoriali e iniziative di autoimpiego dei giovani professionisti, anche prevedendo formazione e qualificazione professionale, utilizzando tutte le forme di collaborazione che possono essere attivate con gli organismi pubblici, corecom e privati, ordini dei giornalisti del settore e enti pubblici qualificati, come le università. Il disegno di legge dettaglia inoltre i requisiti che le singole imprese editoriali devono possedere per accedere ai benefici finanziari previsti dalla legge, inclusa la quantificazione numerica dei giornalisti presenti nelle diverse tipologie di relazioni. Prevista l'istituzione di un comitato permanente presso l'assessorato regionale competente in materia di imprese e lavoro, composto da rappresentanti delle categorie professionali dell'informazione, unitamente a quelli dell'Associazione dei Comuni d'Italia del corecom, con il compito di monitorare l'attuazione della legge e concertare politiche e gli interventi. Sono infine previste modalità di controllo nell'erogazione di benefici. Abbiamo voluto dare una risposta alla grande preoccupazione che esiste per il futuro del settore, afferma in una nota a commento della notizia la Presidente della Regione Catiuscia Marini, non solo per l'irrinunciabile ruolo dell'informazione quale presidio di pluralismo e democrazia, ma anche per i livelli occupazionali messi a rischio, soprattutto per i giovani che vi lavorano, in molti casi già in condizioni di precarietà. Si tratta di una prima stesura del provvedimento che sarà sottoposta alla partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo interessati, così da accogliere osservazioni e suggerimenti